Allora, questo sarà dei primi del Novecento, che questo funzionava a mano così, mentre quest'altro sarà poco dopo, si mette la punta qui dentro, per fatica a farlo funzionare comunque. Funziona sempre come quello, solo che ha il mandrino e quello invece no. Questi sono i succhielli che sostituiscono il trapano con la punta. E sono prima del trapano o sono dopo? Prima, i più vecchi sono questi. Questo è il famoso trapano. Da fabbro? Sì, da ferro. Ah, ecco, perché questi erano da fabbro e quelli erano da falegnano. Che differenza c'è? Il falegnano è un po' lo stesso, perché qui c'è la punta a ferro e su quelle delle punte a legno... Probabilmente gira molto più veloce di quello. Questo gira di più. E questo invece... Questo è il macinino caraballo. Questo è un altro trapano, che questo fa più giri per ora, non ne fa per niente. E potevi darmi un trapino. E devo troppo, come da tre giorni, mette in moto tutto l'organismo che ho io. Questo come sentite? Questo sembra lo stesso trapano. Sicuramente facevi così. Sì, sì, gira questo. E giravi il manubrio. Qui c'è il mandrino per mettere la punta. Però sempre questo è a ferro, mentre quello era a legno. E qui per ora? Passate... ritro ... Di adapti... ... ... ...